Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, al Teatro della Fortuna, nei pressi della Sala Verdi, dove è appena terminata la rassegna cinematografica organizzata dall'Associazione Liberamente, grazie anche all'intervento dell'Associazione Elettra. Siamo qui con la Presidentessa dell'Associazione Elettra, la signora Musone, Alessandra Musone. Allora, ci spieghi un po' intanto l'attività dell'Associazione Elettra e poi insomma come è andata questa iniziativa. Mi sembra molto bene, tra l'altro dal punto di vista del pubblico, i numeri sono buoni per la nostra città. Sì, Fano ha risposto molto bene, quindi si è forse probabilmente sentito questo bisogno anche di confrontarsi su questa tematica che non è nuova, però se ne parla molto poco. Noi ecco, attraverso l'Associazione Culturale Elettra, che si occupa proprio di promozione della salute mentale di genere, e cerchiamo, proviamo a fare questo primo tentativo di divulgazione della disciplina, della materia. Anche se il focus dell'Associazione è in realtà il cuore dell'Associazione Elettra, è un progetto che noi abbiamo attivato con l'assessorato alle pari opportunità e che riguarda l'attivazione del Centro Nazionale di Documentazione Salute Mentale di Genere. Abbiamo uno sportello quindi attivo ogni mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 13 in collaborazione con il Centro Documentazione delle Donne in via Vitruvio a Fano. Tra l'altro proprio lunedì durante la presentazione l'assessore Maria Antonia Cucuzza ci ha anche proposto la nuova sede che dal gennaio sarà attiva, quindi poi cambieremo le coordinate, gli indirizzi e poi vi faremo sapere, vi aggiorneremo. Ecco, il centro in realtà ha due tagli. Uno prettamente scientifico, noi ci occupiamo di ricerca e documentazione, quindi cerchiamo di raggruppare tutta, raccogliere tutta l'informazione che riguarda la salute mentale di genere e cerchiamo poi di inserire i dati online attraverso una banca dati e poi attraverso, e qui ritorna la connotazione dell'associazione culturale, creiamo eventi come appunto questa rassegna cinematografica per poter creare un parterre dove confrontarsi con persone esperte. In quale ambito territoriale svolgete la vostra attività? Qui a Fano, fondamentalmente qui a Fano. La prima attività l'abbiamo fatta qui, però nulla ci vieta di cercare e cercheremo adesso anche di, speriamo di allargarci anche con il contributo di... Poi visto anche il successo dell'iniziativa... È andata molto bene, tra l'altro questa rassegna, noi ringraziamo liberamente, liberamente da cinque... questa è la quinta edizione della rassegna cinematografica e tratta quindi sempre come tema fondamentale appunto la salute mentale. Quest'anno ha donato a noi, più che donato ci ha dato la possibilità ecco di organizzare questa prima rassegna tutta femminile e abbiamo trattato diversi temi, abbiamo trattato il tema della maternità, quindi dell'attesa e poi affrontandolo con due esperti sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista poi del territorio, con le testimonianze del territorio. Abbiamo affrontato il tema delicatissimo e qui la proiezione era indirizzata soprattutto alle scuole, il tema del suicidio adolescenziale. Poi le relazioni che fanno impazzire, quindi con il contributo della dottoressa Barnesi. Il primo giorno invece abbiamo proprio affrontato la tematica che ha dato poi l'avvio proprio alla rassegna, la folia al genere, ci siamo soffermati proprio sul termine genere, abbiamo cercato di dare quindi una prima spiegazione anche perché iniziamo a sentire questo termine, dobbiamo abituarci anche noi. E infine oggi abbiamo poi concluso questo percorso attraverso l'arte, quindi delle riflessioni sull'arte, l'arte e la psichiatria. E siamo abbastanza soddisfatti. Bene, ringraziamo Alessandra Musone per questo suo contributo e complimenti per l'iniziativa e in bocca al lupo per il futuro. Pepi, grazie, grazie.